Ben trovati agli amici di Primo Canale, condizioni meteo per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo una giornata autunnale su tutta la Liguria per un vortice di bassa pressione in quota alimentato d'aria molto umida e ritroveremo quindi la nuvolosità regolare a spasso sulla regione ma a tratti di copertura nuvolosa anche compatta con qualche occasionale precipitazione, comunque non saranno fenomeni intensi. L'imperiese con nuvole irregolari in transito, anche qui però a tratti compatta la nuvolosità con gocce di pioggia, locali fenomeni e poi Savonese, medesima cosa, un contesto di grande variabilità tra delle schiarite a nuvolamenti irregolari in transito e locali piovaschi, temperature massime sotto i 23 gradi sulla costa. Diamo uno sguardo alla provincia di Genova che risentirà della tramontana con mare mosso a largo, anche qui tanta variabilità e qualche improvviso piovasco in giornata. Tiguglio non una bella giornata estiva ma bensì autunnale con nuvolosità in transito a tratti compatta, possibilità di locali fenomeni, venti tesi da nord a nord est, mare mosso massime sotto i 23-24 gradi. Infine lo spezzino, giornata incerta, dinamica per questo minimo di bassa pressione con nuvolosità e di tanto in tanto qualche pioggia. Tendenza meteo per la giornata di giovedì che vedrà ancora della variabilità sulla Liguria per il minimo di bassa pressione ancora attivo sull'Italia ma basso rischio di precipitazioni, quindi giornata più stabile, asciutta con di tanto in tanto delle occhiate di sole, i venti da nord a nord est, temperature massime in lieve aumento ma sotto i 25 gradi. Un ulteriore miglioramento nel weekend tornerà un po' di sole. Maggiori dettagli, approfondimenti, scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.